Il giurone di andata per la Sidigas Candone e Avellino si è chiuso con 7 vittorie ed 8 sconfitte. La preparazione riprenderà sabato, adesso si festeggiano le Final 8. Pur avendo un bilancio inferiore, seppur di poco al 50%, la formazione bianco-verde ha concluso l'ottavo posto guadagnandosi l'accesso alla Coppa Italia, una prima metà di stagione nella quale la Sidigas ha dovuto fare i conti con le difficoltà del nuovo corso. Sacripanti ed alberani, dopo le vicende di mercato, hanno avuto a che fare con altre tipologie di grane, Sin da subito, la compagine bianco-verde non ha avuto la possibilità di allenarsi con tutti gli effettivi per la partecipazione di alcune pedine agli europei, altri sono arrivati in ritardo e non in perfette condizioni fisiche. Quando si stava cominciando a trovare la quadratura del cerchio, sono stati gli infortuni a rendere il percorso più tortuoso. Costretti a fermarsi i due playmaker, prima Tarion Green e successivamente Janis Blooms, la Scandone è stata costretta a ritornare sul mercato. Alberani e Sacripanti avevano puntato su Zack Wright, proprio quando l'affare sembrava chiuso, avendo il sito del giocatore, la trattativa è saltata. I problemi di passaporto e le non perfette condizioni fisiche dell'americano hanno spinto Avellino sull'usato sicuro. Marcus Green Poi l'aggiunta di Ragland a rendere il roster ancora più competitivo. Nel corso della stagione qualche punto è stato perso banalmente, come a Cantù oppure ad esempio nel derby contro Caserta. Nonostante ciò, Avellino ha raggiunto la finale 8 e adesso sogna in grande, soprattutto in ottica playoff. Poi l'aggiunta di Ragland a rendere il nostro corso, di regio la trattativa di Ragland a rendere il nostro corso.